Ciao ragazze, nuovo video cosa mangia in un giorno partiamo dalla colazione per la quale questo giorno appunto oggi ho deciso di fare un bel cappuccino schiumosissimissimissimissimissimo e una brioche e queste sono le brioche che ho deciso di mangiare oggi ovvero dei cornetti senza zuccheri aggiunti della Vivi Meglio presi all'MD con confettura di fragola per il pranzo invece questa pasta è un po' particolare come potete vedere è verde perché è realizzata con farina di piselli eccola qui e questo è il piatto con appunto un ragù di carne tritata e formaggio parmigiano poi mi sono venuti a trovare degli amici e quindi abbiamo deciso di fare un piccolo aperitivo e abbiamo io personalmente adoro la cedrata e quindi ho fatto un bicchiere di cedrata con questi fritti che hanno portato loro a casa per cena invece poiché avevamo già fatto un aperitivo ho voluto fare un'insalata condita con del lime e del sale sale affumicato e da parte perché sapete oramai che io mangio i cetrioli da soli solo con sale e olio e questa è la mia cena e niente ragazzi questo è tutto il video spero che vi sia piaciuto io vi lascio e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao